Assemblea della sezione di Mazzara del Vallo dell'Ancri, qui c'è il Presidente a cui diamo subito parola per illustrarci di questa Assemblea. L'Ancri oggi riunisce tutti i soci per eleggere il nuovo direttivo, l'Assemblea è costituente per eleggere il nuovo direttivo della sezione territoriale di Mazzara. Effettivamente le elezioni dovevano essere svolte l'anno decorso del 2021, ma causa pandemia, causa le note situazioni sanitarie, si è dovuto rimandare e oggi finalmente riusciamo a eleggere il nuovo direttivo. Abbiamo il piacere di avere la presenza del delegato nazionale, Cavaliere Pietro Bongiovanni e logicamente questa Assemblea farà sì che il nuovo direttivo possa continuare a perpetrare le finalità che l'Associazione ha in essere. Ecco, al delegato nazionale Pietro Di Giovanni chiedo, qual è la utilità istituzionale di questa Assemblea e soprattutto qualche cosa di più sulla funzione, sui principi dell'Ancri? Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Per quanto attiene la gestione anche dell'immagine della Repubblica, della bandiera e di quelli che sono i valori che sono costituenti, noi praticamente ci siamo riproposti di mantenerli e di valorizzarli sempre di più nel contesto della società. Gentile figura femminile, il Cavaliere Dottoressa Rosa Maria Miceli che nella lista unica è ormai impecchettone la neoconsigliere dell'Ancri. Sì, e questo mi riempie di gioia anche perché sono una delle pochissime donne che fa parte di questa associazione. È un'associazione che si prefigge come valore la solidarietà, anche perché non dimentichiamo che noi come Cavalieri abbiamo avuto questo riconoscimento dal Presidente della Repubblica per i principi valoriali che abbiamo espresso nel nostro percorso lavorativo. E quindi lo riportiamo anche all'interno dell'Ancri e ne sono gioiosa di questo. Grazie.